Dal 7 settembre, presso i siti della Grande Pompei, prendono il via i percorsi serali. Potrai ammirare alcune suggestive aree della città antica di Pompei, Villa Arianna e Villa San Marco, il Museo archeologico Libero d'Orsi a Stabia, la Villa di Poppea a Oplontis, l'Antiquarium e Villa Regina a Bosco Reale. Scopri tutti gli appuntamenti e le iniziative su www.pompeisites.org